Grandi soddisfazioni arrivano dalle Paralimpiade di Parigi, dove Antonio Fantin si è confermato campione nei 100 metri stile libero, vincendo l'oro nettamente in finale con il tempo di 1.03.12, stabilendo il nuovo record dei giochi. Per l'Italia è il quindicesimo oro. Fantin ha sbaragliato la concorrenza, dando due secondi e 15 di distacco al brasiliano Glock, arrivato secondo. Altro successo è la certezza di una medaglia per Giada Rossi, che ha conquistato la finale del tennis tavolo. Per l'atleta di Zoppola una grande soddisfazione che arriva dopo l'eliminazione nella competizione di doppio. Per Giada, testa di serie numero 2, sarà la prima finale paralimpica per l'oro, dopo i bronzi conquistati a Rio e a Tokyo. La finale è in programma venerdì 6 settembre alle 18, contro la cinese Liu Ying, testa di serie numero 3.